Risolo, Giron, Jovanovic. Risolo corre, Giron serve rasoterra, Jovanovic regala tre sofferti punti al Biceglie di Alberga che batte al 94esimo un coriaceo e mai arrendevole Acrega, sbeffato solo dei propri limiti difensivi più che dalla mancanza di volontà. La squadra bicegliese piomba in piena zona playoff e prova a tenere alta la concentrazione in vista di questo rascio finale. Conferma per il 3-5-2 di Alberga con il ritorno di Petta in difesa, duo offensivo Dursi-Aina con Montinaro e Dazzi sulle ali. Per l'Akragas dell'ex Biceglie, Leo Criaco in panchina causa la squalifica del tecnico Lello di Napoli, un 3-5-1-1 coperto, ma sempre propositivo con le scorribande di Moreo e Bramati, oltre che delle conclusioni di Zibert, inizio scoppettante con poco più di 30 secondi per vedere subito il destro di Dursi deviato in angolo. La risposta dei siciliani però non si fa attendere ed arriva al secondo minuto grazie alla girata di Bramati imprecisa. Poi è solo noia sino al 25esimo quando Montinaro, da circa 20 metri, calcia potente ma Vono si supera e salva tutto. Biceglie è poco propositivo e dal 36esimo trova però una buona azione dopo il terzo corner battuto dai nero-azzurri conazzi a colpire di testa sull'esterno della rete. 5 minuti più tardi ed arriva un destro rasoterra di Aina in diagonale, parato però con sicurezza a terra da Vono. Campo pesante per la pioggia e ripresa con un Biceglie che sembra subito più determinato. 3 minuti di gioco ed Aina si invola e serve al limite Azzi, ma Vono lo anticipa a pochi passi dalla porta. Al 53esimo la prima vera azione del match dell'Akragas grazie alla conclusione su punizione di Zibert dalla lunga distanza, ma la sfere è a lato. Al 61esimo è Giron invece a calciare di sinistro, ma Vono ancora una volta ci mette una pezza in angolo. Difesa degli ospiti tutt'altro che efficace invece al 64esimo, quando un pasticcio condizione rinvio di Vono e Dursi ne approfitta con un preciso pallonetto che segna l'1-0 per i padroni di casa. In campo ci finisce anche Jovanovic, subito ispiratore per Risolo, ma la sfera è deviata in corner al settantesimo. Un solo minuto ed è corner rincornato perfettamente da Azzi, ma troppo centrale per preoccupare Vono. La squadra sicula non ci sta e prova al 75esimo a darsi una scossa con Danese che colpisce di testa, dando però solo l'illusione del gol ai suoi. Un minuto dopo è Camarà che calcia dalla distanza, ma Crispino deve impegnarsi in due tempi e la pressione ospite Beffa in pieno recupera proprio il Biceglie. Minuto 91 e lo stesso Camarà è entrato in campo al posto di uno spento Moreo, riceve palla e serve al centro Dan Macco che tutto solo sigla il pari. Tra le vibranti però proteste di casa per un presunto fallo ad inizio azione. Beffa nel finale a cui tuttavia i padroni di casa rispondono immediatamente. Ultimo giro di lancette e Risolo da sinistra lancia lungo per Giron, abile a stoppare da destra ed a servire Jovanovic che anticipa tutti al volo, siglando il raddoppio ed un fondamentale successo per il Biceglie. Siciliani sempre più ultimi e quasi condannati al ritorno tra i dilettanti.